Un saluto a tutti. Oggi vorrei parlare di un'altra leggenda popolare del Tarantino, dove anche questa volta si mesclano la superstizione e il cristianesimo. Sto parlando dell'unfascino. La parola viene dal latino fascinum, che significa maleficio. Nella pratica è uguale al malocchio. Sono praticamente sinonimi a quanto pare. Gli latini credevano che le occhiate maligne degli invidiosi e ipocriti gettassero il malocchio, oppure altro i complimenti fatti dalle persone invidiose, complimenti quindi ipocriti, causassero dei malesseri fisici, come mal di testa, nausea e altro. L'editura si penserà che potesse far morire la persona. Diciamo che la differenza con il malocchio, che in realtà noi di solito lo associamo alla fattura, cioè qualcosa fatto da una strega, da una magra, qualcosa di origine satanica, paranormale, qualcosa diciamo di fatto di proposito. Mi viene in mente quella roba di tipo Vannamarchi, quelle che vengono smascherate dalla striscia delle notizie, dalle ghiene, o quelle magre, delle tv private, che vengono una volta presenti in giro dalla Jalapa Sbend, o su internet al giorno d'oggi, tipo Annemaria Grelanti, per esempio. Un tale Gianfranco Mega, ha scritto un libricino, un articolo, insomma, che dice che quando andavo all'Università di Urbina, avrebbe fatto questa ricerca sull'unfascino nel suo paese, Sava, che è vicino al mio. Per cui è convinto, però, che questo deriva dal culto di Demetra e di Persephone, detta core, non core vuol dire ragazzo in greco, però era il soprannome che Demetra aveva dato a sua figlia. Perché, diciamo, Taranto era una città della Maglia Grecia, e poi, diciamo, Demetra e Persephone sono diventate Cerre e Proserpina, Proserpina, scusate. Dato che poi c'è stata la dominazione romana, addirittura c'era un vescovo nel 1600, secondo questo Omega, che si lamentava che il nome Core era troppo diffuso, il nome Pagano, dato nella zona del Tarantino, brodato però ancora nel 1600, quindi secondo questa tradizione greca era rimasta al giorno d'oggi. Però in questo, un fascino, i connotati Pagani e Gratimi, o Greci, comunque, siamo persi completamente, perché apparentemente è un rito cattolico al 100%. Diciamo che, ripeto, la differenza con il malocchio sarebbe, come intendiamo noi, con la fattura, che non è volontario causare il male a questa persona, non è stato fatto il suo rituale, basta essere invidiosi, ipocriti, fare un commento positivo, che in realtà nasconde la tua invidia, quindi il commento ipocrito, non c'era quasi mai nessuna intenzione di fare dare male alla persona. I miei paesi, si parla, in passato venissero identificate alcune donne che erano infascinatrici per l'antronomanzia, cioè, diciamo, che erano donne note perché erano invidiose, che erano ipocrite, che facevano sempre questi commenti. Queste donne, invece, erano considerate che sfascinatrici, cioè coloro che sapessero fare il rituale. I soliti soggetti più colpiti erano bambini e ragazze. E per togliere questo infascino bisognava fare un rituale, con delle preghiere cattoliche, apparentemente, però questo rituale è segreto, solo le donne erano, o per lo meno, in maggior parte dei casi, ossia solamente le donne potevano conoscere il rituale, mandare ad altre donne, solamente la notte di Natale, quindi addirittura non si può nemmeno scrivere il rituale, quindi parare su internet, scrivere dei libri, assolutamente no. Il rituale deve essere orale, perché altrimenti il segreto si può svelare. Anche perché, voglio dire, se scrivi qualcosa, la gente un tempo non sapeva né leggere né scrivere. E pari che degli uomini, nemmeno, non solo della carta, non ci si poteva fidare. Il rituale dovrebbe essere questo. No, ovviamente, vado a cercare su internet, su un sito di grottaglie, non su un sito di miei paesi, perché se chiede una donna del miei paesi, dice no, assolutamente, non te lo posso dire. Quindi, inizio, c'è una persona gentilissima che si tratta di grottaglie in rete, ha scritto questo rituale. In breve, faccio una sintesi. Bisogna fare il segno della croce per tre volte. Da notare la ripetizione del 1-3. Tre volte il credo al Padre, oppure tre volte il credo, oppure tre volte l'Ave Maria, oppure una volta il gloria, una volta il credo, una volta l'Ave Maria. Poi bisogna recitare in assolutissimo silenzio, per evitare che si sentisse, soprattutto dall'infascinato, la seguente preghiera. Santo Filippo e Santo Andrea, Santo Cosimo e Damiano, a chi Cristo piglia via, ti do bene, Rosalia? Sono vegno di un'umanato, tutto chino infascinato, e non mi dici che Gesù Cristo è nato, è nato senza peccato? Fannoci passare un fascino e un mare di capo. Traduzione in italiano, per coloro che non capisco il serio di mio dialetto, San Filippo e Santo Andrea, San Cosimo e Damiano, i quali trovarono Cristo per la via. Da dove viene? Rosalia. Vengo da un malato, tutto piegato e infascinato, e non mi dici che Gesù Cristo è nato, senza peccato? Fannoci passare il fascino e il mare di testa. Poi si intingere il pollice nell'olio d'oliva, e si lasciano cadere tre gocce in un piatto pieno d'acqua, e bisogna recitare di nuovo la preghiera, di prima. Oppure quest'altra, Occhio malocchio malinconia, essi malocchio della vita mia, e pira tanta notte di Natale, mosquagli come l'onda di tuo mare. Traduzione con la lettera, Occhio malocchio malinconia, che esca il malocchio della vita mia, e per la tanta notte di Natale, ora si sciolga come l'onda del mare. Se le gocce nell'acqua erano integre, allora l'unfascino o non c'era proprio stato, o era stato allontanato. Se si scioglievano, eri ancora infascinato, e si ripeteva il rito. E poi su questo sito di Alicottagli, si parla di altri rituali, che al mio paese non mai ti devo parlare. Altre cose stranissime, roba veramente da voodoo, straconieria, che c'erano dalle mie parti. Se il mare persisteva ancora. Mi sono interessato questa superstizione, perché mia nanzia da piccola, quando ero piccolo io, me la faceva spesso, perché soffrivo di migrania. Lui diceva che prima non ci credeva. Poi quando è capitato, che una volta, mia cugina quando era piccola, stava parlando di tantissimi anni fa, io non ero nemmeno nato, e praticamente aveva mal di testa, non mangiava, strigava, urlava, non riusciva a dormire, e stava male. Una sua zia, prozia, non mi ricordo, che è morta prima che io nascesse, è stato veramente vecchio, c'è solo, non so quante decadi fa. Se mia cugina era piccola, posso dirvi quanto aveva mia cugina, se non mi spara. Voglio dire. Non ci credeva, però la sua zia, invece, il rituale, la bambina si sapeva subito bene. E così, la zia si fece insegnare il rituale. E poi, in passato, quando andavo a scuola, mi incuriosino, per andare a decine d'anni fa, in corso a ginnasio, liceo classico, scoprì, le origini latine, di questa credenza, del sede, ma l'occhio, del fascinum. E qui si capisce, come praticamente, noi abbiamo ancora, un retaggio, greco, e pagano, soprattutto nel sud Italia, questo per coloro che, pensano che, la cultura classica, non serve a nulla. Insomma, la superstizione, poi è cambiata, con carattere cristiani, perché molte cose, del paganese, per dire il vero. Per questo, ripeto, è una superstizione, che non ha nulla a che vedere, con il cristianesimo. Diciamo, che a parte l'effetto placebo, non saprei cosa dire, su come si può guarire, oppure, forse, insomma, il mare doveva passare, il mare di testa, prima o poi ti passa, anche se stai male. Oppure, diciamo, di recente, quando capitava a me, da piccolo, personalmente, cioè, ti prendevi la medicina, tra Kibirina, Laurina, quello che era. non è mai che la guina, l'hanno tolto, dalla faccia, dal commercio, dicono. Non si troverà più, nella pratica. Ci diciamo, che lo prendi, non fa effetto, non fa effetto, vabbè, facciamo un fascino. E nel tempo, che hai fatto un fascino, magari, il mare di testa è passato. E quindi, tu ti pensi, che la medicina, non ha fatto effetto, un fascino, sì. E, insomma, questa è una cosa, molto interessante. Anzi, è più interessante, di quanto pensassi, perché, mentre faccio il vostro video, ho scoperto, dell'ipotesi, secondo lui, di origine, di tua greca, della magna grecia, di questo rituale. E, spero vi sia interessato. Spero vi sia piaciuto. Alla prossima.